Start menu 8. Non capisco perché non ci vada l'accento sulla lettera U, ma in questo caso ha poca importanza. Eh sì, altro programma di Hiobit. Prima o poi tutti i suoi applicativi li porterò su questo canale. Già la maggior parte sono stati trattati. Dal nome avrete sicuramente intuito di cosa si tratta. Semplicemente consente di cambiare l'aspetto grafico, e anche per qualche maniera funzionale, almeno Start di Windows. Magari quello che sia di default non vi piace. Ecco, in questo modo potete applicare tre temi differenti. Qui ce ne sono due, il terzo verrà mostrato a breve. Io direi subito di applicare la trasformazione, andando per ora su leggero, quindi trasformare di poco quello che si ha già. Ma, tra l'altro, con l'aggiornamento di ottobre 2020, è stato abbastanza rinnovato, eliminando il multicolore delle mattonelle e sostituirlo di conseguenza con un monocolore. Ne ho parlato in questo video sul canale di Windows Blog Italia. Passiamo però a noi. Si nota subito che il logo di Windows 10 diventa più grande. Personalmente mi piace di più rispetto a quello standard che è piccolo. Non cambia altro, quindi passiamo agli altri due temi. Proviamo Stile Piatto, che sostanzialmente mi pare un ibrido fra Windows 7 e Windows 8.1 con la sua interfaccia metro. Infatti qui viene proprio chiamato Stile Piatto. C'è anche la trasparenza, io però la lascio a zero. Proprio come in Windows 7. Io poi vedrei bene questa applicazione in Windows 8 o 8.1, visto che è presente solo la start screen. Se si vogliono ottenere dei vantaggi, quindi aggiungere e sbloccare funzionalità, è possibile farlo mettendo una licenza. Costa veramente pochissimo, ragazzi. 8 euro. In questo modo saranno assenti pubblicità, sia una miglior ricerca per trovare i files che ci servono, ed altro che non sto qui a spiegare nel dettaglio. Trovate tutto nell'articolo di Sciotech, come sempre lasciato in descrizione. Andiamo un attimo a rivedere più nel profondo questo menu. L'ultimo prende proprio le sembianze di Windows 7, con le varie sfumature e angoli arrotondati. Per una maggiore personalizzazione, il programma ci offre diverse opzioni, che non descrivo perché vanno tutti in base al vostro gusto ed esigenza. Ecco, giusto due parole. Qui, ad esempio, possiamo scegliere quali voci far mostrare o meno. Se poi vi rendete conto che avete sbagliato qualcosa, potete fare un ripristino alle scelte di default. In interfaccia utente potete cambiare le immagini. Utilizzerà di default quella che avrete impostato nel sistema operativo. Potete anche eliminarla. Poi si può mettere una differente lingua, cambiare il colore di sfondo e del carattere, eccetera, eccetera, eccetera. Infine potete cambiare anche il bottone Start. Mi pagliano un po' tutte pacchiane queste qui, quindi se ne desiderate altre, le potete prendere attraverso la voce Alpre Fantastiche Icone. Visto che voglio fare un buon abbinamento, scelgo il pulsante Classic e vado successivamente a impostare il menu Start di Windows 7. Wow, c'è anche l'animazione originale. Tutto simulato, non proprio nei minimi dettagli, però dà una sensazione di essere ancora in quel sistema operativo. Fantastico. Bene, il video finisce qui. In descrizione trovate tutto l'occorrente per scaricarlo. Approfondirlo, accompagnarlo con altri prodotti Iovit e le solite cose. Ricordatevi di lasciare un mi piace per il supporto. Va sempre comodo per i numeri. E noi ci vediamo ad un prossimo video.